parliamo adesso dell'effetto draghi sui btp per andare mirata sull'argomento lo vedete anche in sovrimpressione governo draghi ora conviene investire sui btp naturalmente la premessa è quella che abbiamo visto insomma mercati al rialzo il l'indice principale che si è mostrato diciamo più tonico anche rispetto alle altre borse europee lo spread è sceso fino a 93 punti base comunque siamo ai minimi dal 2015 proprio come quando mario draghi era presidente della banca centrale europea aveva iniettato liquidità insomma per sostenere i paesi dell'eurozona a questo punto andrea la domanda è molto semplice cosa conviene fare adesso tonici anche i btp naturalmente cosa conviene fare il momento di entrare ma allora io è da un po che sono abbastanza prudente sui btp nel senso che i btp allora vediamo da un anno che il bot rende meno 0 42 per cento fino all'1 e 45 per cento del trentennale e siamo allo 0 51 per cento sul decennale allora è chiaro che per se si desidera avere un'esposizione a un titolo governativo in europa non ci sono molte alternative perché se andiamo a vedere spagna e portogallo siamo davvero appena appena sopra sopra lo zero e quindi chiaramente andare a investire a 0 o in tassi negativi sulla parte breve non ha molto senso per un investitore per un investitore privato ecco in questo senso io mi farei riferimento a quello che è già successo in passato quindi andando a vedere quando il mercato è andato a scontare delle degli scenari così fantastici come quello che stiamo vedendo adesso quindi quando per esempio lo stesso mario draghi aveva avviato programmi di quantitative easing e in quel caso abbiamo visto che il mercato aveva anticipato nei mesi precedenti quindi abbiamo visto per esempio nel nel 2015 c'era stato un episodio un episodio clamoroso con i btp che avevano sull'attesa appunto della degli stimoli del bazooka aveva fatto un rally fino a rendimenti che erano sicuro erano praticamente doppi di quelli che sono adesso però erano in i minimi di allora quindi erano all'1 1 e 12 per cento nel 2015 poi dopo che effettivamente è stato implementato nuove misure di quantitative easing abbiamo visto poi il mercato che ha preso profitto quindi io devo dire che nonostante nel breve periodo possano esserci a livello di tendenza ancora dei marginali massimi del btp quindi peraltro si inizia a sentir parlare appunto visto che lo spread tra i rendimenti italiani e lo 0 51 e i rendimenti portoghesi o spagnoli che sono appena sopra lo zero e fino a pochi giorni fa erano addirittura negativi anche sul decennale quindi si inizia a scommettere cioè il mercato può iniziare a scommettere che si vada a stringere questo spread io dico questa cosa che secondo me ecco il io terrei presente sempre quello che sta succedendo nel resto del mondo quindi con i governativi più importanti quindi il bund e gli stati uniti e quello che stiamo vedendo che abbiamo visto questa risalita forte dei rendimenti adesso siamo quindi 1 15 85 per cento sul decennale del bund che comunque è negativo meno 0 44 però molto molto meno negativo di prima ecco questo secondo me rimane la guida del mercato quindi con inflazione all'orizzonte io credo che gli spazi di salita dei prezzi quindi discesa dei rendimenti in generale sugli obbligazionari siano molto limitati poi ovvio che in più l'andare a scommettere adesso sul btp può essere premiante ma in un'ottica speculativa di breve termine proprio nell'ottica di questa chiusura degli spread europei tra italia spagna e portogallo e quindi questo potrebbe vedere un'accelerazione ulteriore però ecco credo che siano a questo punto un po' gli ultimi colpi nel senso che un punto tra l'inflazione tra quello che stanno facendo gli altri governativi mi aspetterei una bella fase di top dove chi è rialzo possa prendere profitto e viceversa piuttosto che andare a prendere btp ecco io rimango dell'idea che sia meglio visto comunque il rischio associato in questo momento andarsi a scegliere dei titoli azionari ad alto dividendo magari sottovalutati che hanno rendimenti molto più alti oppure nell'ambito nell'ambito obbligazionario andarsi a prendere dei titoli corporate purtroppo si dovrebbe scendere sotto l'investment grade però scendendosi bene le aziende si riescono ad avere rendimenti che sono dieci volte superiori